Sono passati 11 anni dalla morte di Daniele Franceschi, il 36enne di Viareggio, deceduto mentre si trovava nel carcere di Grasse, in Francia, il 25 agosto 2010. La salma arrivò in Italia prima degli organi interni e la madre, Cira Antignano, continua a chiedere che fine abbiano fatto. L'unico scopo della mia vita ormai è questo, afferma, malgrado le promesse da parte del governo francese, ad oggi non è riuscita a ottenere quanto richiesto. Sulla vicenda ritorna anche l'avvocato Aldo Lasagna, che ha curato gli interessi della famiglia nel corso degli anni. Ci sono stati purtroppo numerosi misteri, ambiguità, reticenza da parte dei francesi e tante zone d'ombra che contornano a distanza di questi anni l'angosciosa vicenda, sostiene il legale. A infittire il mistero contribuì una lettera anonima arrivata a Cira Antignano nel 2020 e in cui si ipotizzava un macabro espianto di organi della salma. Per la morte di Daniele Franceschi furono condannati dal tribunale di Grasse in primo grado per omicidio involontario, equivalente dell'omicidio colposo dell'ordinamento italiano, a un anno di reclusione e di interdizione della professione, il medico del carcere Jean-Paul Estrade, che poi non presentò appello, e l'infermiera Stéphanie Colonna, assolta quest'ultima in appello. Un'altra infermiera, Française Boisely, è stata assolta in primo grado.